Ciao, abbiamo appena letto il capitolo 289 di Myra Academy, adesso ne stiamo per parlare. Iniziamo leggendo le note di Akatsuki. Che indica un discorso franco e sincero, o una persona che parla chiaro, dicendo le cose come stanno. Prefisso AKE significa fine inizio, più il verbo SUKERU che significa essere trasparente. Ok, SHIMATAKU invece è un avverbio che indica CHIUSO. Da verbo SHIMARU, CHIUDERE, più forma sospensiva TE, più desinenza avverbio Q. Quindi abbiamo, parla chiaro Can e CHIUSO Can, reso letteralmente. Chi sono queste due persone? Pensando alle protagoniste del capitolo è chiaro che la prima rappresenta Iniko, mentre la seconda è OJAKO. Ma qual è l'oggetto del discorso? L'amore per Izuku. Iniko parla chiaramente del suo sentimento, mentre OJAKO tiene tutto chiuso dentro di sé. Ma ho capito, ok. Cioè non l'ho capito io. Per questo l'hanno intitolato. Io lo prendo... Infatti si chiama... Eh, mi si è impallato il reader. Pronto? Si chiama Amore Rivelato, Amore Nascosto. Eccolo. Sì, ok, ok. Cioè praticamente è stato incredibile. Mi sono accorto solo adesso che sono un capitolo in cui hanno rivelato entrambi l'amore per Deku. Allucinaggio. Complimenti... Vediamo che è tradotto di preciso. Infatti chi è il traduttore? Complimenti a Tommy per aver... A Tommy, sì. Non so se il traduttore le fa queste scelte o il check. Penso il traduttore. Penso il traduttore le faccio. Complimenti a Tommy per la... Per la scelta di... Di adattamento. Perché ci sta. Perché sennò sarebbe stato un... Chi parla chiaro e chi parla... In maniera non chiara. E ci sta averlo collegato all'amore delle due per Deku. Fica però questa cosa. Anche se... È stata la chiave di lettura di quello che non capivamo. Sì. Anche se... Mi sembra comunque strano che... Cioè... Toga è andata lì giusto per dire a Ochaco sta roba qua. Per ammettere il suo amore per Deku. Perché? Allora Toga... Era rimasta male per la morte di Jin. E si era iniziato a fare domande sul... Sulla giustizia. Se fosse giusto uccidere una persona... Da parte di un eroe. E voleva chiedere questa cosa a Ochaco. Per questo non capisco il nesso tra... Andare lì e parlare di Deku... E la roba che pensava allo scorso capitolo Toga. Cioè... Non... Cioè come se le chierite le idee. Eh... A un certo punto... Aspetta... Sbagliato sto... Ok. A un certo punto... Sì allora loro si pestano. Ci sta... Toga che dice subito come sono le cose... Dice che ha vissuto una vita in cui... Non poteva esprimere se stessa perché... Era vista male dal mondo in pratica. E ha rivelato poi... Il suo amore per Deku. E poi c'è Ochaco ovviamente... Come sempre sarà sitta. Ehm... Però io ti giuro... Continuo a non capire il nesso tra... Loro due che si scannano... Toga che deve arrivare ai sentimenti per Deku. E Toga che due tre capitoli fa... Voleva parlare con un eroe per capire... Qualcosa sulla giustizia. Cosa... Cosa cazzo ha capito questo? Io non capisco cosa ha capito. Ehm... Ti vedo... Ti vedo confuso. Sì, sto provando un attimo a rileggere qua... Allora... La cosa finale dice a Giacomo... Pensavo chiamassimo la stessa persona. Mi chiedevo se avremmo potuto parlare d'amore insieme. Pensavo chiamassimo la stessa persona. Mi chiedevo se avremmo potuto parlare d'amore insieme. Sto tornando da voi, ho trovato la mia risposta e stava piangendo. No, non riesco a scioglierla la... La situazione. Ti giuro, a un certo punto lei fa... Dice queste cose, dice... Da piccola mi dicevano sempre di trattenermi. Ma non ci riuscivo. E' un desiderio che mi viene da dentro. Toga e Miko. Se non puoi trattenerti dal fare del male agli altri, te ne farò pagare le conseguenze. Detto questo qui da Ochako, Toga poi se ne riesce con... Sì, hai ragione. Io non capisco. Non so se ci sta una qualche interpretazione da fare... O se mi sfugge qualcosa nel discorso di Toga e Ochako. Perché non si riesce a collegare con quello che noi pensavamo che Toga volesse andare a fare lì da Ochako. Capito. Perché se fosse solo questo, vabbè, ha chiarito questa situazione qui. Però non si collega con quello che aveva dichiarato prima. Boh... Forse... Boh, a un certo punto dice... Pensavo che a Massimo, la stessa persona, mi chiedevo se avremmo potuto parlare d'amore insieme. Questo lo dice Toga, riferito a Ochako. Mentre se ne va via. Forse... La sua risposta è che lei era andata a cercare le risposte da Ochako, però da parte sua non è riuscita a trovare un... No, dice... ho la mia risposta a un certo punto. Eh, la sua risposta è che non... Lei sperava che Ochako potesse dirle qualcosa, ma la sua risposta è che con Ochako non ha trovato un muro. Eh, sì, ma... Ma perché? Io non capisco, però... Tu vai lì per parlare di giustizia. Perché ti metti a parlare di amore? Vai lì, perché ti introduci tutto per andare a pestarla. Innanzitutto. No, aspetta, com'era la cosa? Era Ochako di aver iniziato, forse? No, e si sono beccate per strada insieme e c'era Toga che praticamente aveva preso possesso, cioè possesso si è trasformata nel corpo di un'anziana. Mhm. E quindi là si sono iniziati a saccagnare le botte. Però Toga era andata lì in riferimento a quello che era successo a... A Jin. A Jin, a Twice. Sì. Perché non capiva come fosse possibile che gli eroi, dovendo comunque fare, diciamo, dovendo comunque esercitare giustizia, quindi agire per il bene e uccidessero delle persone. Perché lei vedeva i villain come delle persone, no? Sì. Sì. Per lei i villain sono persone ormai alla fine. Quindi è andata lì a chiedere spiegazioni a Toga. Era quello il suo intento, io mi ricordo. A Ochako. A Ochako, scusa. Era questo il suo intento. Quindi che cazzo c'entra parlare di Deku? Perché? Forse voleva parlare di Deku e... No, ma Cristo addio, ma lei ammette pure di amarlo Deku. Che cazzo c'entra quindi l'amore di Deku con l'amore di Twice? Per te sembrava un sentimento dell'amore, era giusta amicizia. Non lo so, l'unica cosa è che la risposta è che Inochako ha trovato un muro quando cercava una sponda, penso sia questa la risposta, però il collegamento non lo riesco a trovare ancora. Comunque lei dice di avere una risposta, ma vediamo, magari il prossimo o i prossimi capitoli dirà qual è la sua risposta. Sicuramente riapparirà Troga perché sta sicuramente andando da Gigantomachia che sta combattendo con Bagnabella insieme a Dabby. Quindi, boh, vediamo. Però sì, è molto confusa sta cosa qui. Vabbè, comunque parlando invece dell'altra sponda... Niente, a quanto pare c'è Shigaraki che sta ancora spaccandosi di botte mentalmente con All4One. E in tutto ciò sta per combattere pure con gli eroi, insomma. Eh, sì. Non so fino a quanto continuerà la lotta con All4One e come andrà a finire. Mentre il lato lotta interna, mentre il lato lotta esterna non so nemmeno come se la possano sbrigare perché mi è arrivato Gigantomachia. Cioè, è arrivato Gigantomachia con Dabby e tutti gli altri. Però, ripeto, non è possibile. Allora, gli eroi non possono vincere in questa situazione. Soprattutto ora, no. No, ma sono arrivati. Nella tavola finale noi vediamo Shigaraki, Ida, la Senpai che sta nel trio di Mirio, Endeavor, Deku, Dabby, Tomura Shigaraki, Todoroki e Gigantomachia. Allora, c'hai Endeavor che sta fuori uso. Cioè, guardi, non c'è rimasto più un cazzo di Endeavor, non c'è manco più le fiamme addosso per quanto è sfiancato. E Deku che c'ha gli occhi bianchi, quindi ormai sta in un stato cazzo in culo, come si dice. Poi ci sta Dabby freschissimo e Shigaraki, quanto pare, non ti sa che cazzo c'ha Shigaraki, però potrebbe tranquillamente aprire il culo lo stesso. E ci sta Gigantomachia. Sta arrivando anche Toga, poi oltre a Toga ci sono Lucertolone e quell'altro lì... No, Compress, si chiama Compress. Sì. Insomma, io voglio che muoiono tutti, devono morire tutti quanti qua. Io sono d'accordo con Nosaka. A meno che non convergono tutti gli eroi lì, perché magari gli altri fronti sono sistemati. E quindi il... Il... Il Deosex Machina è l'arrivo di tutti quanti e quindi magari i cattivi devono scappare, però... Non capirei alla fine il senso di tutto questo. Tu hai imbastito tutta sta cosa e poi dove arrivi? La conclusione qual è? Che è tutto come prima. Che poi c'è... Allora, potrebbe giocarsi magari, dico magari, la carta a Shigaraki, ovvero che Shigaraki, essendo molto instabile, potrebbe sia mettersi contro gli eroi che contro i suoi stessi compagni, quindi i villain. E quindi, diciamo, mandare un po' a puttana lo scontro, però è, diciamo, una cosa molto estrema, molto ipotetica. Però Shigaraki è instabile, cioè... Quindi... Una carta simile se la potrebbe giocare. Perché... E quindi tu dici che All4One andrebbe così a fondo da... Cioè, lui interessa più prendere possesso di Shigaraki che magari avrà un vantaggio sulla situazione? No, secondo me... All4One gli interessa molto di più prendere possesso... Non capisco se lui vuole prendere possesso del corpo di Shigaraki o se tramite un qualche collegamento telepatico prendere il... All4One da Shigaraki, però fatto è stato che a lui interessa arrivare all'All4One. Ma in qualsiasi modo ci può arrivare, lui ci deve arrivare, quindi... All'One4All? Eh, One4All. No, All4One. No, One4All, scusa, c'è ragione. E quindi, insomma, lui deve arrivare all'One4All. Perciò c'è a lui che ne frega un cazzo, secondo me, di come va a finire lo scontro. Perché lui, una volta che c'è il One4All, lui ha vinto, in pratica. Che c'hai All4One e One4All... C'hai i Quirk. C'hai i Quirk, in pratica. Quindi, sì, lui ne frega niente dello scontro, se ci pensi. Lo scontro, per lui, era giusto un modo per arrivare a Deku. C'è arrivato, cioè ormai Deku l'ha toccato, c'è stato il contatto, a quanto pare si sono scambiati sto One4All. Di mentre tutto l'ha quarto Quirk... Non si è preso, però. L'ha respinto Deku? Deku l'ha respinto, sì, però secondo me non del tutto. Perché, cazzo, allora, il fatto è che c'è ancora All4One che sta, come dire, sta combattendo con Shigaraki per prendere il processo del corpo di Shigaraki. Lo sta facendo perché, secondo me, lui sa che c'è ancora una speranza che lui si ravvicini a Deku. Comunque c'è un qualcosa sotto che mantenga ancora vivo il collegamento, perché se no non varrebbe la pena stare lì a spaccarsi di botte con Shigaraki. Mentre i villain stanno praticamente, come dire, per vincere. Tu stai robando i coglioni al capo dei villain quando stanno per vincere una guerra, in pratica. Probabilmente sarà un Quirk... Ok, si diventa tutto dal quarto Quirk di Deku, credo. Probabilmente sarà un Quirk fortissimo, ma che potrebbe danneggiare anche Deku. Ma sicuramente quello che ha detto lui è un Quirk maledetto. Cioè, da quello che ha detto... All Might. All Might. Vero. Cioè, ovviamente si può giocare la carta del Power Up e... Ciao a tutti, però... Secondo me non avrebbe senso, eh. Ma non lo sblocca più. Cioè, non lo ha sbloccato quando erano nei... In One4All, non lo sblocca mo'. Ma pure a sbloccarlo, no? Magari lui l'ha già sbloccato, per di mentalmente. Ma fisicamente lui è spezzato. Non avrebbe alcun senso logico fargli sbloccare un Quirk che fa chi lo utilizzerà adesso, che ha braccia distrutte. Cioè... Boh. Ma pure spiancato. Ma anche un Quirk che... Non lo so, straborde, quindi... Lo può usare anche in queste condizioni. Magari è un Quirk che fa prendere... Cioè, fa perdere il controllo all'user, quindi lui dice... Vabbè, lo sblocca e poi si muove da solo per di... Insomma, il cazzo da destra manca in altro discorso. Però... Cioè... Fisicamente Deku sblocca il Quirk, almeno coscientemente. Non vedo come posso utilizzarlo. All Might quando schiatta? Comunque... All Might secondo me schiatterà per mano di Shigaraki. Seguendo la previsione di Night Tide. Madonna. In maniera crudele. Mi dimentico sempre di quella previsione, in realtà è importantissimo, cazzo. Sì, non è sicuro che si avveri, perché alla fine hanno dimostrato che... Deku Nova va vinto contro il destino, queste cose qua, però... E secondo me non muore nemmeno Endeavor a questo punto. No, perché secondo me Endeavor muore. Qui no, secondo me no. No, Endeavor muore. Endeavor ha una croce così da... Da eoni ormai. Che ci giochiamo, Kenzo? Che Endeavor non muore in questa saga? Eh... Non lo so che ci giochiamo... Non lo so che ci giochiamo, Anta, sinceramente. Però dobbiamo giocarci qualcosa, se non che gusto c'è. Vabbè, ma in questa saga... Secondo te muore in questa saga? Gesù Cristo, proprio, non è troppo... Io ce lo vedo che muore, ma nel senso... Potrebbe morire, come potrebbe anche non morire, perché... Ma ero accadino, non muore mai un cazzo di nessuno, Cristo. Lo so. È morto Nighttime, ma perché Cristo, porca puttana, non lo so, ci ha preso... Non lo so, ci ha preso andare quella merda che non poteva non morire. Però in tutte le altre situazioni che poteva morire, gente non è mai morta. Poi pure Grandorino, non sappiamo nemmeno che... Cioè, Grandorino, fino a cinque capitoli fa, stava stecchito per terra, che cazzo di fine ha fatto Grandorino? Cioè, io non sono in gula più nessuno, ormai. E magari sopravvive pure, quello è il bello. Cioè, tu immagini a questo stronzo che sta per terra sdraiato, morente, e aggiunto gli compatte in faccia per aria, capito? Si tirano cazzotti, pugni, cacciolo, sta per terra così. Cioè, è allucinante. Comunque no, secondo me non muore in questa saga. No? No. Shigaraki secondo te? No, non muore nemmeno Shigaraki in questa saga. No? E magari, diciamo, se non facesse morire uno dei big, ma facesse morire tipo uno dei più piccoli, tipo Ida. Nemmeno Ida muore. Dici? Grandorino, se devo dire... Se devo darti un nome è Grandorino. Altrimenti gli altri... Se vogliamo dirla tutta che Grandorino aveva mori dieci capitoli fa, però... Eh, se vogliono proprio farlo morire a fine saga, diciamo. No, Endeavor non muore ora. Non so, l'attenzione non la vedo più su di lui, quindi sarebbe una morte un po' così. Beh, potrebbe... Potrebbe, come dire, concentrarsi un attimo di più su... Ma pure a farlo morire così all'improvviso, eh. Cioè, senza concentrarsi forse su di lui. Eh, ma lo potrebbe Rikoshi. Vabbè, Rikoshi sì, è quel tipo di mangaka che... Se non ci mette 30 kg di pathos prima non fa morire nessuno. Però... Però mai dire mai. Facciamo qui. Se... Chi perde la scommessa... Legge... Cioè, fa le prossime reaction di Myra Academia. Vestito da... Non so da chi ci possiamo vestire di Myra Academia. Cioè, tutti i costumi tamari. Dai, qui c'è il costumazzo che ti prende tutto il corpo. Vediamo subito. Vediamo se ci sono costumi di Myra Academia su Amazon. Ah, ho trovato uno perfetto. Qual è? All Might. No, aspetta, devo... C'è il Mineta. Aspetta che... Esiste la parrucca di Mineta. No, che schifo. No, è troppo brutta. Non è neanche Mineta questa. Questo è quello che si metterà Ante se perderà la scommessa. Dai, è perfetto. Ante ha già perso. Non so che ha proprio convintissimo. Ante... Sì. grazie